Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Nel porto di Fano in secca, i pescatori protestano suonando le sirene delle barche Domenica si vota nei comuni di Colli al Metauro e Terre Roveresche in provincia di Pesero A occhio alla notizia e l'appello al voto di 5 candidati Gira con una spranga di ferro in mano, denunciato dalla polizia Per raggiungere lo chalet si cambia abitudini, stoppa le auto, moto e biciclette Da oggi si va in Busnavetta A Fenile di Fano inizia stasera la festa del Fagiano e della Fragola, fino a domenica Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi, buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV Allora, c'è stato un incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 in località Abbadia di Naro Vicino a Cagli A scontrarsi quasi frontalmente con un autocarro proveniente dalla direzione opposta Un'infermiera a bordo di una Fiat Punto La donna per l'urto violentissimo è rimasta incastrata nel veicolo fino all'arrivo dei vigili del fuoco di Cagli Viste le sue condizioni è stata trasferite nelle ambulanze all'ospedale regionale di Torrette di Ancone Il conducente del furgone, ferito in modo più lieve, è stato invece trasportato al pronto soccorso di Urbino Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge La strada pecchiese è rimasta chiusa per circa un'ora Il personale dell'ANAS ha provveduto poi alla circolazione e alla pulizia del piano stradale Con l'arrivo dell'estate alle porte parte anche l'operazione Il piano dedicato alla sicurezza della Polizia di Stato L'inizio della stagione estiva coincide anche con le operazioni di polizia intensificate per un'estate sicura I recenti episodi sanguinosi legati al terrorismo ed il clima di tensione internazionale che ne consegue Accentano l'attenzione delle forze di polizia anche in concomitanza della chiusura delle scuole E l'aumento del flusso turistico sulle nostre coste Sul fronte della sicurezza stradale ma anche della prevenzione Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Urbino hanno identificato oltre 120 persone E controllato 46 veicoli per verificare provenienza, generalità degli occupanti, stato dei mezzi E l'eventuale presenza di stupefacenti o strumenti da scasso Ne scaturisce che 8 persone sono state denunciate all'autorità pubblica per diverse irregolarità Legate a fermi amministrativi, patenti scadute e assenza di assicurazione Il più grave episodio però risale a mercoledì dove un leccese di 20 anni è stato fermato in pieno giorno Mentre si aggirava con fari minaccioso per strada sotto l'effetto di droghe con una spranga di ferro di diversi centimetri L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver preso a sprangate una cassetta antincendio ed un cartello stradale Ieri un quarantenne ed una ventenne del posto trovati in stato di ebrezza alla guida dell'auto Egli è stata ritirata anche la patente così come ad un trentenne del luogo trovato alla guida sotto l'effetto di stupefacenti I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva Anas riaprirà il traffico entro la serata di oggi l'ex strada statale Treflaminia in località Acqualagna In provincia di Pesaro e Urbino dopo le verifiche tecniche eseguite sui viadotti Candigliano e Burano Il traffico sarà consentito alle autovetture e ai mezzi pesanti fino a 25 tonnellate Il tratto compreso tra gli svincoli di Acqualagna e Acqualagna-Tarugo era stato chiuso in via precauzionale Lo scorso mercoledì 31 maggio in seguito ai controlli programmati lungo la rete di competenza Che avevano evidenziato la necessità di ulteriori verifiche tecniche e accertamenti approfonditi su questi due viadotti Torniamo a Fano Il porto è in secca e i pescatori lanciano l'ennesimo grido di allarme Questa volta hanno deciso di manifestare suonando le sirene delle barche Vogliamo che il presidente della regione Ceriscioli venga qui dove siamo noi oggi E venga a rendersi conto di persona delle condizioni in cui versa il nostro porto Lo pretendiamo Parole forti quelle di Tonino Giardini sulla banchina del porto questa mattina Nell'incontro con la stampa per mettere nuovamente il dito sulla piaga del dragaggio del porto Tra lupi di mare, forza pubblica e assessore I marinai al rientro dalla battuta di pesca sulle vongolare Avrebbero dovuto inscenare un'azione di protesta con sirene ed entrate in porto ad effetto Ma forse fiaccati dagli appelli continui e caduti nel nulla E i rimandi e le promesse neanche loro forse ci credono più E così le sirene suonano ma un po' a casaccio Tra l'indifferenza è la curiosità di qualche passeggiatore mattutino e militare della capitaneria Anche se loro il problema, i marinai e i lupi di mare lo conoscono bene È da tanto tempo, è da tanto tempo che siamo così Abbiamo stato in regione, in comune E nessuno ci dà ascolto E non so cosa dobbiamo fare di più L'ultimo dragaggio serio del porto di Fano è stato fatto con la Sorbona nel 1994 Da allora solo interventi sporadici Ciò che serve ben altro anche perché il comune di fatto la sua parte l'ha fatta Caso unico in regione Davvero invitiamo la regione a controllare e l'autorità portuale a procedere di Ancona Affinché si possa arrivare al dragaggio delle darsi nel porto di Fano Che se no diventano impraticabili con gravi problemi alla pesca e complessivamente problemi sociali E che non siano calende greche quindi Ma intanto la situazione non è affatto semplice E lo spettro della chiusura del porto per motivi di sicurezza Angoscia e non poco gli operatori della pesca Se i tempi che così ci vengono sussurrati neanche detti sono quelli di gennaio febbraio del prossimo anno Noi chiuderemo il porto Cioè il timore è che poi in caso di pericolo il comandante della capitaneria dica Il porto si chiude Questo non lo vogliamo Qui c'è tanta gente che lavora Che vive sul mare Perché è tradizione anche di Fano È caratteristica della nostra realtà Sono in difficoltà le vongolari Lo sono ancora di più in difficoltà i grandi pescherecci E oggi pomeriggio poco dopo le 18 Sulla strada statale 16 a Metaurelia di Fano C'è stato un incidente nel quale è rimasta coinvolta una Mercedes classe A Sulla quale viaggiava un senegalese L'auto la vedete in questa immagine Grazie a un nostro reporter di strada Per cause da accertare E' uscita di strada capovolgendosi Illeso il conducente Qualche rallentamento per il traffico Per raggiungere lo chalet del mare Si cambia abitudini Stop alle auto, alle moto e alle biciclette Da adesso si va con il bus navetta Cambiare tutto per non cambiare niente O poco In sintesi al termine dei lavori della commissione pubblico spettacolo La ricetta che viene data ai locali per il pubblico intrattenimento Nella zona dell'Arzilla Prevede 192 persone per lo chalet del mare E 174 per il baretto Nel perimetro però interno al locale C'è quello dato in concessione Nulla vieta alle persone però di fermarsi all'esterno dei locali E quindi le cifre potrebbero diventare quelle che già conosciamo Ma in quel caso sarebbe un problema di ordine pubblico Qualcosa di sostanziale è cambiato però Ma riguarda le aree d'accesso ai locali Via del Moletto e sottoferrovia del Lido Lì si è pensato ad una zona rossa dalle 22 in poi Nei giorni che i locali comunicheranno Per fare pubblico intrattenimento Per garantire la sicurezza dei presenti Niente bici, niente motorini, niente auto Garantite però anche sei navette in punti di scambio Per evitare anche i pericolosi parcheggi lungo la nazionale Ci sono a disposizione col bus navette I parcheggi dello scambiatore di Viale Romagna Il parcheggio ex FIF Il parcheggio del cimitero Il parcheggio ex Vittoria In più all'occorrenza hanno dato la disponibilità Anche di utilizzare due parcheggi privati Con un contratto di affitto E quindi loro garantiranno Il servizio navetta Per tutte le persone che devono andare all'interno Devono accedere a quella via Quindi non sarà penalizzato Nessun residente Nemmeno i ristoranti che sono lì Perché potranno usufruire anche della navetta E quindi ecco Si è voluto guardare particolarmente Ecco La sicurezza del luogo Allora domenica Domenica prossima si vota Si vota in tutta Italia In oltre mille comuni Nella nostra provincia sono quattro Quelli nei quali bisognerà eleggere Il nuovo primo cittadino Domenica 11 giugno Giorno di elezioni amministrative Per oltre mille comuni d'Italia Urne aperte Quindi dalle 7 alle 23 Per oltre un milione di cittadini Nelle Marche sono 18 i comuni Che devono decidere il proprio primo cittadino E 4 nella provincia di Pesero Urbino Frontino, Tavoleto, Colli al Metauro E Terre Roveresche Per questi ultimi due è un giorno dalla doppia valenza Perché sono due neoidentità formate dalla fusione di altri comuni E rappresenta la prima volta di voto congiunto dei cittadini Per decidere il primo cittadino della storia di Terre Roveresche Andranno al voto 5.624 cittadini di Barchi Orciano di Pesero Piagge San Giorgio di Pesero I candidati sono Antonio Sebastianelli Lista civica Uniti per unire E Maurizio Cionna Lista civica Noi siamo Invece per i neo cittadini di Colli al Metauro 12.452 Provenienti da Saltara Serra Ungarina E Montemaggiore Che vanno al voto con il Tar Che deve ancora pronunciarsi sul ricorso Presentato dal Comitato del No I candidati sono Stefano Aguzzi Lista civica Uniti con Aguzzi Sindaco Paolo Del Moro Lista civica Del Moro Michela Ubaldi Lista civica Vivi il tuo territorio E allora Adesso Occhio alla notizia Da spazio ai 5 candidati Quindi ai 2 di Terre Roveresche E 3 di Colli al Metauro Dando ciascuno Un massimo di 2 minuti Li sentirete Li sentiremo Tutti in fila E quindi Sentiamo qual è il loro appello al voto Buongiorno a tutti Sono Antonio Sebastianelli Candidato Sindaco Per il nuovo comune Di Terre Roveresche Che è nato dalla fusione di Barchi Orciano Piaggio San Giorgio Di Pesaro E insieme Lista ci siamo proposti Per la guida di questo nuovo comune Di questo nuovo territorio Perché partivamo da un presente Che era difficile E da un futuro Che era quindi incerto Insieme alla mia squadra Che è un connubio Di persone con esperienza amministrativa E persone nuove Giovani Quindi hanno la freschezza di idee Vogliamo immaginare il futuro Di questa nuova comunità E immaginando quindi Il futuro di questa nuova comunità Vogliamo dare un presente sicuro Ai nostri figli Ai nostri nipoti Ai nostri nonni Ed è per questo Che domenica 11 giugno Vi chiediamo di darvi La vostra fiducia E quindi di votare La lista numero 1 Uniti per unire Terre Roveresche Candidato Sindaco Antonio Sebastianelli Buongiorno a tutti Sono Maurizio Cionna Sindaco uscente di Piagge Candidato per la lista numero 2 Noi siamo Terre Roveresche Per il nuovo comune di Terre Roveresche Due secondi per dire perché Mi sono e ci siamo candidati Con altri colleghi Perché essendoci presi Una responsabilità Di portare i nostri comuni Alla fusione Avendo riscosso Un successo importante Chiaramente non ce la siamo sentiti Di abbandonare in questo momento Così particolare Così importante Questa missione E quindi ripeto Questa è la motivazione principale Che ci ha portato A questa candidatura Naturalmente poi Una cosa Un obiettivo fondamentale Che ci siamo posti È stato proprio quello Di costruire una squadra Affinché sia Fortemente rappresentativa Del territorio Con risorse Di esperienza E con giovani Entrati Proprio in questa occasione Perché? Perché in una fase come questa È fondamentale Che ci sia Una profonda conoscenza Del territorio E questo Ce lo consente Perché in una fase come questa Dove io dico sempre Che chi vincerà Non sarà Colui che andrà A governare Un normale comune Da 5.500 abitanti Che esiste da una vita Ma dovremmo ricostruire Ricostruire Da zero Un comune Quindi Servono veramente Delle risorse Delle capacità Delle visioni fondamentali E noi su questo Credo che perlomeno Nella formazione della squadra Siamo riusciti E su questo abbiamo puntato Io dico sempre Che la sfida Oserei dire Che è impossibile La considero impossibile Per un verso Ma possibile per un altro E dico sempre Che noi dovremmo Non far pentire Nessuno che ha votato sì E di conseguenza Cercare di far cambiare Idea a qualcuno Che ha votato no Perché? Perché non dobbiamo Assolutamente Lasciare indietro nessuno E per questo motivo Che siamo Coscienti E consapevoli Che la nostra lista Sarà in grado Di dare Le risposte Necessarie E le aspettative Alle aspettative Che abbiamo Dato in questo periodo E quindi Vi invito A votare Lista numero due Noi siamo Terre roveresche Capolista Cionna Maurizio Grazie mille Le elezioni di domenica Sono elezioni Molto particolari Per questo territorio Per la prima volta Le tre comunità Quella di Montemaggiore Quella di Serrungarina E quella di Saltara Sono unite In un unico comune Colli al Metauro Questa è una fase Indubbiamente Molto particolare E anche molto difficile Che merita Tutta l'attenzione Di chi ha Una forte esperienza Amministrativa Perché non sarà facile Unire queste tre comunità Dal punto di vista Amministrativo Burocratico Ma non sarà facile Nemmeno dal punto di vista Proprio ideale Della socialità Della solidarietà Tra queste popolazioni Ecco La mia candidatura Nasce proprio Da questa esigenza Una figura Una figura La mia super partes Che non appartiene A nessuna Delle tre comunità E che potrà Giudicare Con molta più Attenzione Con imparzialità Tutte le fasi Di questa fusione Tutte le esigenze Di tutto il territorio Oltretutto La mia lista civica Uniti con Aguzzi Sindaco La lista numero uno È nata Proprio Con questo presupposto Quella di unire Un territorio Unire le idealità Del territorio Unire anche Le persone Che erano Meno favorevoli E più favorevoli All'unione Del nuovo comune Perché tutti Devono partire Con lo stesso passo Nessuno deve Rimanere indietro Tutti i cittadini Di Coglia al Metauro Deve sentirsi Egalmente protagonisti In questo percorso Io per quel che mi riguarda Farò il sindaco A tempo pieno Sarò qui tutti i giorni Aiutando tutti I miei collaboratori A portare avanti Insieme questo progetto comune Il mio non avere Condizionamenti politici Essendo La mia Una vera lista civica Che non è aggregata A nessun partito politico Permetterà Con ancora più serenità Di far crescere I miei collaboratori I giovani Le persone che mi affiancano Per poter essere loro Poi i protagonisti In futuro Dopo di me Buonasera a tutti Sono Paolo Del Moro Candidato sindaco Di Colli al Metauro Per le elezioni Che si svolgeranno Dopodomani Io fino Non sono un professionista Della politica E fino a un mese fa Non avrei mai pensato Di candidarmi a sindaco E trovarmi in questa posizione Purtroppo Il silenzio assordante Degli altri due candidati Hanno fatto sì Che mi sentissi Moralmente Obbligato A scendere in campo E a dover dire Con onestà E coraggio Che è il simbolo Della nostra lista Il simbolo Dei leoni E le cose Che gli altri Non volevano dire Che stavano tacendo Alla realtà Sappiamo che qui A Colli al Metauro È stata ottenuta Una fusione È stata fatta Una fusione Forzata Contro la volontà Dei cittadini Di Montemaggiore Che si sono espressi Con il referendum A grande maggioranza Per il no Sono in corso Dei ricorsi Sappiamo solo Dall'altro ieri Che si va effettivamente A votare Però il 5 di luglio Decideranno Se queste elezioni Sono legittime o meno Una cosa inaudita Che non potrebbe accadere In nessun altro Stato del mondo Questa cosa Mi ha portato A dovermi candidare Perché oltre al silenzio Sulla realtà Dei cittadini Che potrebbe generare Una situazione Di incertezza giuridica Per i prossimi anni Ci tacciano Delle grandi altri Diritti violati Il diritto alla sanità Il diritto A dei servizi pubblici A prezzi giusti E corretti Per tutti i cittadini Che adesso Stanno facendo Siamo soggetti A contratti trentennali Che bisognerà andare In Europa A combatterli Per avere delle tariffe Giuste Più eque Per i cittadini Il diritto A una equità sociale Dare la possibilità Con il comune Le persone che non hanno Capacità economiche Di fare dei lavori Per il comune E ricevere in cambio Dei servizi Cosa che non è mai Stata fatta In questo comune E non c'è Nelle altre liste La volontà di farlo Siamo gente comune Noi siamo L'unica lista Che ha la possibilità Avendo le mani libere Di mettersi contro Queste cose E fare i diritti Dei cittadini Sono profondamente Convinta Che la mia candidatura E quella del mio gruppo Vivi il tuo territorio Sia l'unica E valida Prospettiva di futuro Per il comune Di Coglio al Metauro Una proposta Genuina E concreta Nonché autentica Perché fatta Di persone Che vivono In questo territorio E che fanno parte Integrante Di questa comunità Non so bene Che cosa si voglia intendere Per essere Super partes Posso dire che io Così come gli altri membri Del mio gruppo Siamo fortemente orgogliosi Di poter dire Di essere cittadini Del comune di Colli Al Metauro Siamo profondamente Convinti Che per poter Costruire insieme La nuova identità Del comune di Colli Al Metauro Sia indispensabile Conoscere le proprie origini Le proprie radici E la propria identità E solo persone Che appunto Fanno parte Di questa comunità Potranno rappresentarla In maniera adeguata Siamo altrettanto Convinti Che l'esistenza Del comune di Colli Al Metauro Debba essere tutelata In tutte le sedi Anche quelle giudiziarie E su questo punto Non ci possono essere Fraintendimenti Non ci possono essere Spazi neppure minimi Per posizioni Contrarie O tantomeno Ambigue Votate dunque Vivi il tuo territorio Con Michele Ubaldi Sindaco Perché vi diamo garanzia Di gettare Delle fondamenta Solide Per lo sviluppo E per il futuro Del nuovo comune Di Colli Al Metauro Questi gli appelli Al voto Per la giornata Di domenica Adesso cambiamo pagina Palazzo Braci Pagani A Fano Tornano i protagonisti Dell'arte contemporanea Come Bruno Bruni Le sue opere Adornano le case Di VIP E campioni dello sport Di mezzo mondo Schumacher E Jean Todd Per citarne solo alcuni Bruno Bruni Scultore Design Pittore Definito Emozionale Sensuale E virtuoso Un protagonista Dell'arte contemporanea Cresciuto alla corte Di Vangi E poi alla scuola Di belle arti Di Hamburgo Dove fu guidato Nella sua opera Da maestri Come Gottuso E Gresco E dove le influenze All'estero Delinearono da subito I tratti stilistici Della sua opera Che ancora oggi Lo rendono inconfondibile Le sue opere I suoi quadri I suoi dipinti E le grafiche E le sculture Dal 10 giugno Al 30 luglio Riempiranno Le splendide stanze Del Diana Art Gallery Di Palazzo Braci Pagani Che già videro Il suo maestro Vangi Inaugurare Questo spazio museale Cittadino E' chiaro che Delle stanzette Delle stanze così Dove ci sono 3-4 quadri Ogni stanza E' chiaro che si valorizza di più Che quando ce ne sono 50 Uno dietro l'altro Che periodo è Della sua Espressione artistica? Questo E' misto Perché sono dei quadri vecchi Fino all'ultimo Che ho fatto Questo che è l'ultimo Sono dei quadri Di 10 anni fa Di 5 anni fa Di 3 anni fa Di 2 anni Ho cercato di mettere Una cosa rappresentativa Del mio lavoro L'intento della fondazione E' quello di dare Alla città Con la presenza Di questi artisti Di caratura mondiale Un impulso culturale Di spessore Alla città di Fano Sì Come avevamo detto L'anno scorso Continuiamo Tutti gli anni A fare mostre Di carattere Pittorico O di sculture Di arte contemporanea A livelli Davvero internazionali Infatti abbiamo iniziato Nello scorso Con Giano Vangi Una mostra che ha avuto Un successo enorme E continuiamo Quest'anno Con due artisti Di livello Ugualmente internazionale Inaugurazione mostra Domani 10 giugno Ore 17.30 Con la presentazione Dell'artista Da parte del critico D'arte tedesco Jürgen Schilling Domani sera Su Fano TV Fano TV Trasmetterà In diretta La 39esima edizione Del pellegrinaggio A piedi Macerata Loreto Il collegamento È previsto Per le ore 20 E terminerà Intorno Alle 22.15 Con l'uscita Dei pellegrini Dallo stadio Elvia Recina Di Macerata E l'inizio Del cammino notturno Verso la Santa Casa Di Loreto Alle 20.30 È probabile Anche un messaggio In diretta Telefonica Del Santo Padre Papa Francesco Alle 20.45 Invece La Santa Messa È celebrata Dal cardinale Kevin Farrell Prefetto Del nuovo Di Castero Laici Famiglia E vita E questa sera A Fenile di Fano È iniziata La festa Del fagiano E della fragole Allora Andiamo a collegarci Con la festa Con Lino Balestra Scusate 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 Se interrompo Scusate Un attimo Un attimo Un attimo Io invidio Queste persone Ciao Fano Ciao Fano Ciao Fango Ciao Ciao Lino Ciao Lino Allora Io vi invidio Tantissimo le giacche Sono venuto In t-shirt Allora Diciamo agli amici A casa Che cosa state facendo E perché siete qui Ok Stiamo facendo Un concerto Con Fango Live E subito dopo Con i cartacarbone Per salutare Tutta la zona Del centro Italia Ecco Per la festa Del fagiano Sì alziamo la mano Ecco Tutti quanti Come vedete Il clima Ecco il fagiano Mi sembra giusto Il clima È molto goliardico Molto allegro Sciorineranno Tutto il loro Repertorio A più non posso Per ballare E far divertire le persone Assolutamente Ci sarà una prima parte Che farà appunto Fango Live Con la sua band E poi i cartacarbone Faranno saltare Questa pista Come non mai Benissimo La festa del fagiano Tre giorni Grandi tre giorni Stasera con noi Musica un po' più rock E poi domani E dopo domani Liscio Anni 60 Per queste migliaia di persone Benissimo Il cibo È di altissima qualità Naturalmente Vi aspettano le cucine Con la specialità Il fagiano E le fragole Appunto Qui Nello splendido parco Del fagiano A Fenile di Fano Restituisco la linea Allo studio Ciao Franco Massanti Presidente Bene grazie Allora Con questo collegamento Chiudiamo qui L'edizione di oggi Di occhio Alla notizia Noi ci rivediamo Domani mattina Alle 7.30 Con la rassegna stampa Questo intanto È il numero 338-4968-250 Per le vostre Segnalazioni Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona serata Alla notizia Al prossimo episodio Grazie.